Oggi si parla della ZES, ma al di là di questo progetto per il porto di Crotone, quali sono le novità? C'è una svolta? Allora, grazie a questa manifestazione della Confindustria che mi ha fatto essere qui con il commissario della ZES, Giosi Romano, che naturalmente annuncerà la sottoscrizione di una convenzione fra la mia autorità di sistema portuale e la ZES Calabria. È il momento anche di essere qui oggi, perché oggi è il momento della svolta per il porto di Crotone. Dal giorno 15 si avvieranno le procedure di demolizione degli ex manufatti dell'area Sensi e nella stessa settimana noi presenteremo per l'istruttoria, al Comune, alla soprintendenza e a tutte le autorità competenti il progetto di riqualificazione che abbiamo fortemente voluto in sinergia con il Comune di Crotone per la riqualificazione e la rigenerazione del porto vecchio di Crotone. È un momento di svuota e lasciatemelo dire con grande soddisfazione.